Credo che questo referendum sia fortemente strumentalizzato contro il governo e che sia oggetto di una profonda distorsione. Lo vediamo anche nella comunicazione di questi giorni, vediamo piattaforme petrolifere esplodere, gabbiani immersi nel petrolio. Beh, intanto ci sarebbe da dire che questo referendum va a definire le concessioni alle piattaforme estrative e soprattutto non va a ledere quella che è una norma europea che già vieta nuove trivellazioni. Quindi parliamo di trivellazioni in essere che vedono coinvolte 10.000 famiglie e quindi 10.000 posti di lavoro. Dietro il referendum sulle trivellazioni in Adriatico non c'è una vera preoccupazione per l'ambiente ma soltanto il desiderio di dare una spallata al governo. Ne è convinta quella parte del Partito Democratico che nel paese è maggioranza ma è minoranza nel comune di Venezia. Noi, spiega Matteo Montagneri, il 17 aprile non andremo a votare o voteremo no per tre ragioni. La prima è che si tratta di una strumentalizzazione politica. La seconda è che è stato voluto da un gruppo di regioni tra cui il Veneto per motivi molto più legati ai poteri dei diversi livelli di governo che di genuina preoccupazione per l'ambiente. La terza è che la scelta dell'astensione viene presentata in modo volutamente equivoco. Da sempre il referendum spinge all'astensione coloro che non sono favorevoli all'abrogazione e in questo non c'è nessuno scandalo. Non far raggiungere il quorum equivale a votare no. L'appello a cambiare idea è rivolto soprattutto ai compagni di partito. Come diceva Filippo Turati, quando l'avversario è d'accordo con me probabilmente sta sbagliando. E qui potete vedere la straordinaria campagna che sta venendo fatta. Vedasi anche le straordinarie compagini che si stanno impegnando in questo referendum. Forza Nuova, Casa Pound. Abbiamo qualcosa da spartire o forse sarebbe il caso di fare un passo indietro e accendere il cervello?